cari italiani questa è una lettera per tutti voi per un popolo che non ha mai mollato nemmeno di fronte a catastrofi che avrebbero abbattuto un gigante la nostra storia racconta le gesta di santi poeti ed eroi che hanno portato la nostra bandiera in alto per il mondo ma ora gli eroi siamo noi è il nostro tempo è il nostro momento solo noi possiamo uscire da questa situazione uniti insieme ve le ricordate le bellezze del nostro paese le piazze i monumenti il nostro mare le nostre magnifiche dolomiti sembra passato un'eternità da quando potevamo uscire e vivere il nostro meraviglioso paese ma ora non siamo in trappola noi italiani non lo siamo mai stati questa è una battaglia silenziosa insidiosa ed estremamente dolorosa che solo uniti potremmo vincere risorgeremo ne sono certo viva l'italia viva gli italiani